Buonasera, qui è il servizio geografico del Regno delle Due Sicilie e stiamo a presentarvi il nostro itinerario nella terra di Basilicata. Siamo entrati qui a Rapolla dove oggi è passato il giro d'Italia, siamo passati a Venosa, città natale di Orazio, domani continueremo per Spinazzola, potete leggere qui come Spenazzola, entreremo nella terra di Bari, poi nella terra d'Otranto, rientreremo a Matera e di nuovo nella terra d'Otranto qui a Taranto, la città di Mare Grande e Mare Piccolo, quindi taglieremo il sacco d'Italia fuori mappa verso... ...perdice di Sì... ...